Tutta la verità sui vaccini a mRNA. Il vaccino presenta molecole di RNA messaggero, le quali contengono le istruzioni per costruire la proteina Spike, ovvero la molecola che permette l'ingresso del virus nel nostro corpo. Una volta iniettato, quindi, le nostre cellule inizieranno a costruire questa proteina, stimolando così la produzione da parte del sistema immunitario di anticorpi specifici. E queste sono alcune informazioni aggiuntive.